Salento Ogni giorno, prima che sul resto d'Italia, il sole sorge sul Salento, l'estrema propaggine orientale della Puglia. Qui vivono i Salentini, discendenti degli antichi messaggi. In ogni piccolo borgo vi sono antiche vestigia, monasteri bizantini con frantoi ipogei, chiese seicentesche adornate d'un caldo e luminoso barocco. Strade strette e tortuose, su cui si affacciano case a corte, palazzi moreschi e torri d'avvistamento. Appena fuori paese, tutti intorno, la caratteristica terra rossa, muretti a secco e piccole pagliare. Vigneti e oliveti secolari, austeri e rubosi. Mentre caldo soffia lo scirocco al suono insistente delle cicale. Le radici antiche affiorano nelle feste locali. La focara di Sant'Antonio per la fine dell'inverno. La pizzica per curare il morso della taranta. La festa Telumiero per la vendemmia. E ancora le processioni, i riti religiosi e le tante feste patronali. Questo è il Salento. E noi siamo un'azienda Salento da mare. Calore umano, estro e fantasia guidano un'insuperabile capacità manuale che prende corpo nella puntigliosa perfezione per i particolari, eseguiti con passione e perizia, nel barocco, nei ricami, nell'intarsio, nel ferro battuto, nella pasta fatta in casa. Il luminoso barocco si coniuga con il gusto morbido ed elegante del negro amaro, adorabilmente fruttato. La ceramica, in continua evoluzione, si incontra con i prodotti alimentari. Conservati e confezionati con moderne tecnologie, mantengono vive antiche ricette. L'arredamento e l'abbigliamento competono sul mercato internazionale con lo stesso spirito con cui i produttori più attenti traggono dalle secolari piante d'oliva, nuovi oli dal gusto fresco e vellutato. Un costante processo evolutivo che sa coniugare le ricchezze naturali con le esigenze dei consumatori, senza perdere la sua solare sobrietà. Questo è il Salento, e noi siamo un'azienda, Salento da Mare. Il marchio d'area Salento da Mare, registrato a livello comunitario, è posto dalla provincia di Lecce al servizio delle aziende dei settori agricolo, agroalimentare, turistico e dell'artigianato, allo scopo di promuovere e sostenere le produzioni tipiche, le attività turistiche e i servizi d'eccellenza del Salento, interpretandone la voglia di crescere e mantenendo la propria identità. Ogni azienda Salento da Mare, attraverso specifici regolamenti d'uso, si impegna a garantire la specificità del processo di produzione e del prodotto finale, il rispetto delle norme territoriali, commerciali ed etiche correnti, e in termini di sanità pubblica, di tutela ambientale e di benessere umano e animale. In un mondo sempre più convenzionale, c'è bisogno di Salento.